Allora, questa mostra nasce da un accordo con la direzione del Giornate della Luce e tutti gli anni proponiamo delle mostre fotografiche legate al cinema. Quest'anno l'occasione era offerta dal centenario pasoliniano e quindi ci è sembrato opportuno riproporre questa mostra che fa conto soprattutto sulle foto di Mamma Roma per omaggiare Tonino Delicolli che è stato il bravissimo direttore della fotografia dei primi film di Pasolini, compreso Mamma Roma e degli ultimi. Queste foto arrivano dal fondo di Ivo Cavicchioli del Centro Cinema Città di Cesena e raccontano il rapporto tra il direttore della fotografia Delicolli e Pasolini sul set. Quindi sono soprattutto immagini di backstage, di preparazione di scene, di pause e di accordi.